tifosi del napoli buongiorno siamo a barcellona alle nostre spalle la sagrada famiglia adesso vi portiamo in giro con noi per la città e vediamo se troviamo qualche tifoso azzurro ed eccoci ecco il primo tifoso come ti chiami mi chiamo federico pericola tua prima trasferta seguire il napoli si esatta la mia prima trasferta senti partita stasera importantissima il ritorno tra napoli barcellona il tuo pronostico è una partita molto complicata però speriamo bene in questo napoli speriamo forza napoli sempre siamo qui con antonio antonio buongiorno buongiorno a voi buongiorno a voi allora è la prima volta che seguì il napoli in trasferta no è ormai siamo sulla cinquantina 50 52 non le contiamo preciso ma più o meno 50 52 sia in maggio in italia che in europa tale in europa diciamo un 70 per cento in italia 30 per cento in europa vai divise così antonio io ci provo poi tu rispondimi come vuoi pronostico per stasera assolutamente non abbiamo pronostico anche se giochiamo stasera perfetto mi sembra la miglior tattica grazie a te ciao ragazzi forza napoli e guardate chi abbiamo incontrato piero un emblema tra l'altro del from napoli to the world perché da napoli a new york da new york a barcellona come stai a sto benissimo bellissima giornata belle sensazioni sono felice qua senti 66 qui per seguire il match sì sì oggi si va lo stadio stasera senti ma prima prima trasferta che fai per seguire il napoli oggi sì 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 mi trovavo qui in europa ha detto dai non posso mancare anche perché barcellona è un mito sono tifoso del napoli la squadra che unisce poi il nome di maradona anche tutte e due quindi non potevo mancare piero io ci provo un pronostico per stasera vittoria del napoli e rigori ci piace grazie piero e forza napoli forza napoli sempre il nostro giro in città finisce qui io vi ricordo l'appuntamento stasera barcellona napoli alle ore 21 ci vediamo allo stadio